A proprio ritiro che comincia la partita Poi il trio di amichevoli e ricordo il 19 agosto il premio ancora pescato da Lorenzo Insigne Anche ancora poi il tiro di controvanzo con questo effetto leggermente a rientrare Fondamentale però per permettere alla traiettoria del tiro di diventare imparabile per Hogger Gran cosa Ateneo, cos'è Maria? Caglione Venga, giocate un po' ad Ateneo a Salonico, ciò nonostante si raccoglierebbe Ottima salvezza La zappata alla dimensione di Caglione Diventa protagonista, non so quanto volontario Non è un'altra idea, cos'è Stagione? Caglione La ragazza di Caglione sembra evidente Gol di Caglione Pasticcio a metà campo, la parte di Calsas Zappata può partire, arriva Caglione, Caglione il suo piatto, salva tutto Hogger Ma poi Anastasianis mette l'errore grane, non riesce a controllare il proprio corpo Poi cento, ragazzi Pasticcio a metà campo, la parte di Caglione Pasticcio a metà campo, la parte di Caglione Pasticcio a metà campo, la parte di Caglione Piaccio a metà campo, la parte di Caglione Ma poi c'è Stagione Paticcio a metà campo, la parte di Caglione E il po' di 30 Corri Proprio di adesso Ma soffrendo Il Pesaro della Napoli Qui ha guardato tutti fermi con questo gol contro il Napoli anticipato Inler un po' tutti fermi vedete anche un po' di calo di concentrazione in questo finale di partita bravo a Deja ad approfittare a sfuggire alla marcatura di Inler e a segnare di testa gol del 3 a 1